è un cavallolo, è un cavallolo, chi lo salta insieme a noi cos'è, chi lo salta insieme a noi cos'è, è un cavallolo, è un cavallolo è un grande dino Un Presidente, c'è solo un Presidente, un Presidente, c'è solo un Presidente, un Presidente. E ci sono, 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 e ci sono. E qui, direcco, silenzio, e si dedica, lo preserei. Ragazzi, io la vedo in un sogno, prego la voglia. Io la vedo in un sogno, prego la voglia. Allora, ragazzi, vi ripeto, per me è un sogno prendere veramente 40 persone, e portare in una parte, perché siamo qua in tuttanta mila cirocchietti. Ragazzi! Oggi siamo calda, siamo calmi, non mettete, non mettete c'è proprio il suo motovol, poi c'è proprio l'occhio, cioè anche per andare a mezzo. Non mettete anche con le frutti? No, 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 no. Per ciò mi faccio. Ma è più apropa amic contenido? Non mettere un progetto che lo sono! Chi avrà pureta vivere? Chi resta nel quotidiano? Chi va bene quindi? Mi ovo fare solo. Chi va bene? FルSe. Eh, eh, siamo, eh, siamo... Oh, io! Spiegati con un esempio. Vai. Un esempio. Però non puoi fare il Presidente se non sei che nemmeno capace di fare un discorso ai tuoi discepoli. Ma questo non sono i discepoli. Perché questa sera, caro Domenico, non hai fatto dei discepoli. Perché io non sono nessuno, non sono il primo, io sto secondo, sono Ludovico. Veramente, haihai un'aliturist. Ma è il nostro Ludovico! Perché io stasera sono uscito da casa per trasmettere. Bravo! L'Utto Vico è il mio Presidente 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 e tutti insieme vincerai, la voia vincerà, tutt'ora prima lo passerà, la legge del giro, nessuno mai la cambierà. La voia vincerà, vecchia guardia, siamo sempre presenti, sempre presenti. Saremo, o tu e tu andrà, dai non ti lasceremo, ma Ale Sole, Ale Sole, Ale Sole, Ale Sole, Ale Sole. Ragazzi, un applauso alla scelata! Siamo senza senso! Siamo senza senso! No, no! Ragazzi, io ribadisco un ringraziamento a voi che è stato prima di noi e a quella di so, perché grazie a loro che stanno iniziando. La gente come noi non porta a mano, la gente come noi non porta a mano, la gente come noi, la gente come noi non porta a mano. Non ci farai! Non ci farai! Non ci farai! Non ci farai, non ci farai! Questa è iniziale! Siamo le mani, siamo le mani, sosteniamo la nostra fede. Siamo le mani, siamo le mani, siamo le mani, siamo le mani. Siamo le mani, siamo le mani. Il collettivo, è solo le mani.